Dall'oceano Atlantico fino a Parigi, navigando su fiumi e canali d'acqua dolce artificiali, con una piccola imbarcazione a vela di 6 metri, munita di pannelli fotovoltaici ad emissioni zero. Un progetto green, originale, che ha come scopo non solo quello di proporre rotte alternative e modalità di navigazione eco-compatibili, ma anche quello di raccogliere fondi per l'associazione giuliese degli atleti di basket in carrozzella Micacci. L'idea è del dottor Ugo Fano, medico-chirurgo all'ospedale civile di Giulianova, che prima di ogni altra cosa è un uomo di mare. Durante la sua vita ha esplorato il mondo in barca a vela e oggi sceglie l'acqua dolce per uno scopo benefico. È un progetto che prevede di trasportare una barca a vela con propulsione elettrica, con pannelli fotovoltaici, batterie a carica lenta, per fare la traversata dall'oceano Atlantico al Mediterraneo a emissioni zero, senza inquinare. Questo è il progetto. Quanto è grande questa barca? La barca è grande, 6 metri, lunga 6 metri, però ha tutte le caratteristiche che sono indispensabili per noi. Che difficoltà presenta questo progetto? Tecnicamente tantissime, perché devo trovare dei pannelli fotovoltaici che abbiano una superficie adeguata per una barca di così piccole dimensioni. Il problema del peso dei pannelli fotovoltaici, che è notevole, è che mi spostano in alto il baricentro della barca, quindi devo evitare che ci siano problemi di ribaltamento della stessa. Ci sono dei problemi del motore elettrico che deve sopportare una lunga navigazione di oltre 500 chilometri. Con quale scopo? Lo scopo ultimo e ambizioso è quello di riuscire a vendere questo progetto e cercare di trovare degli sponsor, dei donatori, al fine di dare un contributo alla polisportiva Amicacci di Giulianova, un'associazione di basket in carrozzine, nella quale opero come medico volontario. Quando partirà? Il primo settembre vado in pensione, il 2 settembre parto per questo progetto. E chi sarà il suo equipaggio? Mia moglie, Catrina, naturalmente. Primavera prossima pensiamo di continuare il percorso attraverso il Rodano, la Sonne e la Senne e arrivare a Parigi. E allora buon viaggio. Grazie.